Hey la, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale Sì, sono Allie Sì, sono Allie E siete su Allie Auri Channel Come avete già letto dal titolo Siamo tornate con un video Haul Abbiamo un po' unito gli acquisti fatti in queste ultime settimane Perché finalmente siamo diventate zona gialla Siamo andate a fare un po' di shopping in realtà Un po' ai negozi, quali Beshka, Primark Sephora E anche acquisti online come le nostre collanine che stiamo indossando Che risaltano la scollatura della maglietta Della nostra maglietta Ladies Che alla luce del sole si colora appunto di azzurro Però siamo al chieno E le vendiamo appunto sul nostro sito www.alliaurichannel.it Vi lasciamo sempre il link qui sotto in info box, mi raccomando Tra l'altro questo video sarà sottolineato in questo modo Ci sarà una prima parte di vlog Infatti che abbiamo fatto ma è molto breve E qui appunto io, Lely e un'altra mia amica Andiamo a fare un po' di shopping In questo centro comitale che si chiama appunto Adigeo dopo scuola Perché appunto Auri è ritornata in presenza al 100% E mentre Lely 50-50 ma quel giorno andavamo entrambe a scuola E quindi abbiamo approfittato per andare a fare shopping Come vedete appunto nel vlog Nella seconda parte vi mostreremo tutti gli acquisti che abbiamo comprato quel giorno e i giorni precedenti E finalmente abbiamo fatto danni Ma non importa, direi di iniziare subito Direi anch'io Hello Ormai siamo diventate in tre Tre amiche col cappotto Anzi, le due amiche col cappotto e l'intrusa Abbiamo pranzato su una panchina come delle barbore E ora stiamo andando alla DG a fare un po' di shopping Perché ci sta Tanti Oggi abbiamo avuto io un'interrogazione Perché è andata bene Quindi ci sta E io non ho rischiato in matematica che lasciamo stare E con il pigiama E con il pigiama E lì Eccola lì il pigiama di Crogo Tu che hai scritto Star Wars di Mandalorian e non c'hai il pigiama di Star Wars di Mandalorian? Guarda che figo Però, eccolo qua Siamo da Primer E ci siamo provate un pigiama che è praticamente identico Questo mi cambia il colore e la stampa Io Winnie e Laura Leone Abbiamo provato anche un altro po' di roba Però quello lì è molto carino in realtà Sì, questo qua ci sta È molto estivo e perfetto per Posso provarmelo anch'io Auri E qui siamo da Stradivarius E ho fatto danni da Primark Abbiamo fatto danni Oh 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 Abbiamo rimane su un paio di pantaloni Tutte e tre uguali ragazzi Però In degradé Tutto studiato raga Noi stiamo facendo una mini pausa Perché Serviva Con gelatino E Ultimi negozi E poi Verso casa Hey live Hey Siamo arrivate a casa Allora abbiamo lasciato giù Nella appunto in stazione Che ha preso il bus per tornare a casa E noi adesso Andiamo a casa Anche noi Di farvi vedere I prodotti che abbiamo acquistato Iniziamo da Un negozio in realtà Per tutto il centro commerciale Solo il giallo Poi 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 Semplicissimo E i pantaloni E i pantaloni Che dicevano E poi 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 Estiva Ha pezzettino Un must have Un must have È questo cappello Da pescatore Bellissimo Di questo Beige 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 Beigionino E secondo me È super bello Io ne ho già uno Che avete visto da alcune foto Dello shooting Tra l'altro Infatti se sta guardando questo video Sa la mia fobia Per i cappelli Che è colpa sua Esatto È bellissimo Secondo me Continuando Quegli acquisti Sempre di Prana Che abbiamo preso Un vestitino Lo utilizzeremo Tutte e due Perché sta bene Ne entrambe E wow È bellissimo Ovviamente È un vestitino Da mettere d'estate Non adesso Però in realtà Ci stava tantissimo Bene anche per uscire Per fare un'usciuta Così molto easy Scialla Ne costava 8 euro E wow Bellissimo Bellissimo Poi questo verde Super carino Non sembra per niente verde Nonna Ma verde oliva Molto bello Ecco finalmente Le super richiestissime Dell'aurora Perché Ne ho infradito Ho troppo freddo No perché Allora ricercavo Un paio di ciabatte Che fossero una via di mezzo Tra le ciabatte pelose E stive Sono arrivata a questo compromesso Che sono Loro In realtà C'erano tantissime fantasie Solo che il mio numero 39 era Inesistente Secondo me Sono strascomode Però le proverai Sono costate Credo 6 euro Esatto Quelle che vanno più di moda Sono quelle che hanno Il pelo sopra Però mi sembra Volevo prendere quelle io Però L'aurora le voleva prendere Con l'intento Di non avere caldo ai piedi Quindi Mi ha detto Non puoi prendere col pelo E niente Se voi magari Le avete già utilizzato Fatemi sapere Se sono un epic fail Oppure se hanno un senso Proseguiamo con un nuovo acquisto Questo qui Non fatto alla DJ Ma fatto appunto Online E si tratta Delle nostre bellissime collane Sono perfettamente Su nostro decoltè Con questo scollo Della nostra maglietta Lady Il brand si chiama Silviax Personaled Jewelry Tra l'altro è arrivato In questa scatolina Strabella Con appunto La pezzetta per pulire Infatti questo brand È diciamo Specializzato In collane E gioielli Comunque personalizzati Quindi con il nome Con le iniziali Eccetera La Ellie ha scritto appunto Ellie Invece il mio cuoricino Con la mia Iniziale Con la A Io avevo già acquistato Questa collana Da Sufil Ma mi si era rotta E devo dire Che comparando Questa mi sembra Molto più resistente Rispetto a quell'altra E molto più lucida E anche molto più lunga Ma la lunghezza Appunto si può scegliere Ci sono sia prodotti Argento Argento E anche Oroso Però sapete che noi Siamo diciamo fan Dell'argento E abbiamo messo anche in doccia Per uscire E sono ancora perfette Sono veramente molto molto resistenti Sembrano Sì molto molto valide Sinceramente E sono molto molto contenta Acquisteremo prestissimo Con il codice BCC15 Mentre se comprate Due cose La terza avrà Il 40% Di sconto Con il codice BC40 Super super mega Approvato da Allie e Auri Che sono ormai Test di gioielli Proseguiamo con Bershka Siamo entrate Abbastanza sconfitte Da Bershka Perché non è un negozio Nostro abituale Siamo entrate anche Da Stardivarius Però Abbiamo provato Però non ci ha convinto Quindi abbiamo acquistato Da Bershka Perché siamo entrate E abbiamo avuto L'illuminazione divina Siamo state veramente Super mega Soddisfatti da Bershka C'era una coda Pazzesca Abbiamo fatto praticamente Un'ora di coda Per il camerino Allora iniziamo Col prodotto basic E poi andiamo con Wow Allora io ho preso Questa magliettina Super super mega Carina Azzurina Pastellosa Che ha tipo le fasi lunari E poi è un colore Primoverile Molto molto bello 7 euro e 99 tagli a est Io ho preso Una cintura Finalmente decente A 18 anni Ovviamente L'ha copiata da me E dalla Ciompi Questa è la classica Cintura di Bershka Nera con i buchi Che ha Penso tutto il mondo Però è molto molto comoda Per le persone Che hanno le cinture Che sono sempre rotte Perché queste qua Sono appunto Molto molto resistenti E arriva qui L'effetto Bobà Con i pantaloni Mia zampa Se sapete Lavorava letteralmente Un amore Per i pantaloni È un amore molto recente E li ho acquistati In versione Che metto Praticamente tantissime volte Con i tappetti Il mio modello Si chiama Denim Bershka Sofia Idem anche il mio Solo che abbiamo preso Dei colori Completamente diversi Lely Lely le ha presi Molto molto chiari Esatto Appunto di questo colore qui Centomila volte meglio Chiari Al contrario Ma è centomila volte scuri Sa Zampa di elefante Ossia molto stretti Sopra E si vanno ad aprire La campana sotto Eccoli qua Ragazzi Era la moda Dei nostri genitori Questa di nostra mamma E cioè Lei è più entusiasta Di noi Perché mettiamo Questi pantaloni 25,99 euro Anche il mio E secondo noi La coppetta perfetta Anche con le scarte Con le Nike Air Force Bianche E anche la Ioni Le ha preso uguale Come avete visto Soprattutto che abbiamo Tartanità diverse Wow 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 Finalmente Bershka Cazzo Se l'ho preso positivamente Devo dire Fatti siamo entrate E abbiamo visto Mio E appunto Questo bellissimo sacchettino di carta Di vesto pazzo Che è un negozio Super mega bello Che vende gioielli Probabilmente è nuovo Questo negozio Perché non l'avevo mai visto Alla di Geo E abbiamo preso appunto Degli orecchini strabelli Secondo noi Che cercavamo Da tantissimo tempo E finalmente abbiamo trovato Infatti ve l'abbiamo Anche già detto In un vecchio haul Che abbiamo preso Questi qui da chiavi Però hanno Il cuoricino pendente E finalmente Dopo mesi 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 di ricerca Li abbiamo trovati Di alluminio Tra l'altro Super economici Costavano 4,80 euro Speriamo che non si rovinino Troppo velocemente Però non dovrebbero Perché appunto Sono in alluminio Sono fatti così Ossia proprio Quelli che cercavamo noi Eccoli qua Sono appunto A cerchietto Sono super mega carino Non vedo l'ora di provarmi Ma poi anche il sacchettino Tipo di juta È super super bello Il nostro video Il vostro haul 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 termina qui Abbiamo fatto diciamo Uno shopping Molto molto concentrato Però che veramente Siamo state super mega felici Speriamo che i nostri acquisti Vi siano piaciuti Fateci sapere qui Tutto con un commentino Qual è stato magari Il vostro preferito Noi vi mandiamo Un grosso bacione E vi diamo appuntamento Giovedì con il prossimo video Vi ricordiamo appunto I seguenti sui nostri social Instagram e TikTok Dove ci chiamiamo Aliauri.channel E in Pinterest Dove ci chiamiamo Aliauri.channel Tutto attaccato E sul nostro sito web Dove ci chiamiamo appunto www.aliauri.channel.it E adesso salutiamo 10 persone Scente dal video precedente Greta Un bacione Vittoria Un bacione anche a te Luna Un bacione Beatrice Un bacione anche a te Leonora Un bacione Francesca Un bacione anche a te Sara Un bacione Irene Un bacione anche a te E per ultima Manuela Un bacione Noi vi diamo appuntamento Giovedì Con il prossimo video Ciao